L'infanzia in gioco è nata come una scommessa dove l'obiettivo era creare una pagina facebook attraverso la quale professionisti e genitori potessero confrontarsi. Siamo a due mesi dalla nascita del blog, diciamo che incomincio ad avere quasi 300 like, ciò vuol dire che comunque sta girando, ciò vuol dire che la partecipazione diventa abbastanza assidua, le idee su come arricchire questo blog diventano sempre di più? Ci mettiamo in gioco anche noi come professionisti, come genitori, nel caso mio specifico come nonna anche, con l'esperienza che può andare ad arricchire e attrarre giovamento a nostra volta da quelli che possono essere i contributi di chi si occupa di bambini. L'obiettivo è quello di prevenire quelli che potrebbero essere eventuali disturbi o comunque di pensare al benessere e non alla cura del bambino. Parlare di bambini non significa soltanto andare a fare conferenze, a raccontare casi, a esplicitare situazioni cliniche, ma a vivere la quotidianità. In più, a due mesi dalla nascita, la redazione ha deciso di rendersi ancora più attiva e partecipare ad un concorso, un concorso che Aviva Community Found promuove per dei progetti di integrazione dei progetti sociali e abbiamo pensato che questa cosa poteva essere fattibile per entrare ancora di più in relazione, per entrare ancora di più in interattività. Per questo vi invito a conoscerci, a mettere mi piace alla nostra pagina, a darci anche semplicemente un'occhiata. Quindi andate su Infanzia in Gioco, non uno di meno, e se volete anche raccontarci la vostra esperienza o avere qualche informazione a riguardo, scriveteci. Siamo qui e siamo qui per voi, perché insieme siamo una forza.